Signora, tutto fatto? Io vado! Ti lascia il telefono! Ah sì, il negozio è 16 553, però a martedì sono dai rossi al 19 200 o al 19 431. E il venerdì sono dai ciamponi al 16 312 la mattina, perché invece pomeriggio sono dal dentista al 17 302. Scusi, ma non ce l'ha il telefonino? No. Questo è il momento. Con Tim c'è il nuovo abbonamento Euro Basic Zero, senza canone e senza fascia oraria. Grazie per la visione!